Siamo a colazione e notare la differenza tra un'italiana e la mia colazione con tutte le robe salate Poi abbiamo preso i cappuccini, un po' di frutta, spremute e lo yogurt Vi faccio vedere, siamo in un hotel proprio sul Canal Grande che si vede fuori, in realtà stanno passando le gondole e questa è la sala della colazione che è super super bella per me Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video Come potete vedere sono in un'altra stanza d'hotel ancora Siamo arrivati ieri pomeriggio, tardo pomeriggio, da Napoli con il treno a Venezia che come sapete è una delle mie città preferite in tutto il mondo Io amo Venezia, amo anche Napoli, amo anche Roma però Venezia ha un posto speciale nel mio cuore Forse perché essendo di Trieste comunque ci sono state talmente tante volte che non lo so, mi è familiare, mi sento a casa Adoro, 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 adoro Venezia Ve lo dico sempre, ogni volta che parlo di Venezia ho le... tipo le stelline negli occhi, non lo so E tra l'altro è la seconda volta che siamo qui io e il mio fidanzato assieme quindi siamo molto contenti per questo ma soprattutto, e nel frattempo mi trucco con voi ragazzi sto applicando la base con SPF 50 perché il sole è forte e devo cospargermi fare il bagno nell'SPF per non ostionarmi ed è ovviamente la primissima volta della sua mamma qui a Venezia e penso che Venezia sia la città preferita di tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora per lei perché è veramente estasia cioè ogni cosa che vede dice oddio, sembra di stare in un film e vige una signora troppo simpatica troppo... cioè... non lo so è molto spiritosa e quindi sta vivendo un sogno ogni cosa che vede è wow sembra di stare nei film wow, questo l'ho visto in un film e quindi... quindi sì insomma stiamo passando delle bellissime giornate in realtà abbiamo ancora oggi e domani e poi lei riparte per il Canada noi la riaccompagniamo in aeroporto e poi andiamo qualche giorno a Trieste dai miei in questo momento siamo in una suite in un hotel meraviglioso sul Canal Grande a Venezia cioè vi faccio vedere giusto per farvi capire quanto è gigantesca questa stanza vi giuro cioè io non... cioè... giusto vi faccio un mini room tour anche se la stanza è un po' incasinata in questo momento perché ovviamente ci siamo svegliati abbiamo fatto colazione e devono ancora tornare a sistemarla ma... sì... è enorme gigantesca cioè... rendetevi conto adoro questi lampadari in vetro di murano sono stupendi cioè vorrei averne uno a casa e poi lì c'è... faccio vedere qui c'è il bagno con la vasca idromassaggio e qui c'è la doccia come vi dicevo appunto siamo arrivati ieri pomeriggio pomeriggio tardo e abbiamo esplorato un pochino Venezia ieri sera siamo stati a cena in un ristorante che si chiama Do Spade che mi è stato consigliato dalla mia amica Lisa e ci siamo stati già tempo fa quando siamo stati a Venezia cos'era marzo e ci siamo assolutamente tornati perché merita davvero si mangia benissimo quindi abbiamo mangiato pesce buonissimo ieri sera e oggi... adesso abbiamo fatto colazione che è stata anche quella strabuona cioè io detesto svegliarmi presto ma quando sono in vacanza o da qualche parte in hotel invece mi piace perché so che vado a fare colazione non lo so perché c'è tipo a casa non faccio mai colazione quando sono in hotel non vedo l'ora di andare a fare colazione quindi mi sveglio tutta contenta e quindi abbiamo fatto colazione cornetti buonissimi quanto mi mancavano i cornetti italiani ragazzi che diciamo ce lo sono mille volte meglio rispetto ai croissants francesi e adesso appunto sono tornata in camera loro nel frattempo sono usciti perché dovevo sistemare un attimino il video che vi ho montato è il vlog l'ultimo cioè l'ultimo vlog però è il primo ed ultimo che ho fatto a Napoli e ho dovuto cioè avevo caricato vi giuro avevo caricato tutte le scene in cui i camerieri da Nennella ballavano cantavano canzoni napoletane poi c'era la canzone quella di time of my life e il carissimo youtube mi ha copyright strikeato che parole mi invento cioè mi sono usciti tutti i copyright per queste due canzoni anche se c'era rumore di sottofondo gente che cantava comunque ho dovuto mettere una musichetta insomma sopra quelle scene che mi è dispiaciuto tantissimo sappiate che avrei voluto lasciare la musica originale ma non ho potuto a causa appunto di youtube quindi sono tornata in stanza ed ho lavorato un attimino sul video ho modificato queste scene ci ho aggiunto la musichetta ho ricreato il file e adesso lo sto caricando l'unica pecca di questo hotel è che il wifi è lentissimo cioè io non penso non so neanche se sia a dsl perché ci sta mettendo tre ore non le dico così tre ore cioè letteralmente sono in questo momento due ore e cinquantotto minuti e il caricamento è già all'otto per cento quindi in realtà erano oltre tre ore di caricamento e quindi ma esco e lascio direttamente qui il computer appunto a caricare il video sperando che non ci siano problemi e che rimanga connesso sia alla 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 corrente elettrica che al wifi quando esco in modo che poi il video possa andare online a 17.30 ma penso che comunque torneremo in stanza prima così posso controllare perché voglio cioè sono in vacanza ma ci tengo comunque a caricare dei contenuti più che altro aggiornarvi su quello che sto facendo perché non mi piace mai sparire per troppo tempo anche se magari faccio meno video però voglio sempre qua e là cioè essere presente e quindi oggi in realtà volevamo andare al museo del profumo che è in un palazzo meraviglioso ma per un qualsiasi motivo oggi è chiuso forse perché è lunedì non lo so e quindi abbiamo prenotato i biglietti per domani e quindi in realtà oggi i piani che abbiamo sono allora numero uno fare un po' di shopping perché la non mi piace chiamare la mia suocera quindi la mamma del mio ragazzo voleva comprare delle cosine naturalmente made in Italy approfittare del fatto che qui e comprare qualche regalino e poi andiamo a fare appunto un giretto di souvenir fino a quando arrivano le ore più calde e poi andiamo penso a visitare la basilica in piazza San Marco e poi andremo ovviamente a pranzo non vedo l'ora di tornare a piazza San Marco perché è sempre spettacolare vederla e poi stasera altra sorpresa che mi ha fatto il mio ragazzo che io sono vabbè lo sapete sono in fissa scusate ho avuto un momento di panico perché mi sembrava che qualcuno stesse bussando alla porta ma non stavano bussando cioè tipo una specie di rumore come se qualcuno stesse bussando però tipo qua oh mio dio oh mio dio ragazzi sto parlando di fantasmi io veramente no ragazzi ok momento di panico passato era veramente mio ragazzo pensavo un fantasma ok e vabbè quindi stasera abbiamo questo ghost tour e io sono stracontenta perché l'ho fatto ad Amsterdam tempo fa e si sa che Venezia ha un sacco di storie no di fantasmi e cose del genere quindi non vedo l'ora di farlo e ovviamente vi porterò con noi adesso finisco il make up e poi usciamo fa un caldo è lucidante Venezia veramente veramente caldo ma è sempre bellissimo siamo da Pilones io adoro questo negozietto hanno le robe più carine del mondo un sacco di gadget con i gatti si è bellissimo adoro questo storcere anche a Amsterdam l'hanno chiuso da poco è troppo carino le robe più carine veramente inimmaginabili c'è tipo il portaspazzolino a forma di unicorno gli spazzolini a forma di tour eiffel in tutte le cosine del piccolo principe che io amo siamo in questo centro commerciale bellissimo volevamo in realtà pranzare sulla terrazza ma è tutto pieno fino ad agosto incredibile e qui ci sono anche dei negozi molto interessanti ho visto bulgari e bottega veneta guardate che meraviglia è maestoso questo posto bellissimo è una cosa che abbiamo trovato il mio ragazzo ovviamente lo sta prendendo perché l'ho fatto l'ho contagiato con la mania dello spritz abbiamo trovato le caramelle ragazzi allo spritz cioè non sapevo neanche che esistessero vi farò sapere se sono buone no vabbè quanto adoro girare per le vie di venezia è bellissimo stiamo guardando tutte le cosine abbiamo fatto qualche acquisto di souvenir dei vetri di murano maschere veneziane stupende a parte quella del medico della peste che mi fa una paura incredibile super creepy ma tipo queste sono meravigliose adoro bellissimo stupendo i piccoli con i cattini oh sì oh che carine sono così carini sono bellissime mi piace i piccoli i piccoli come questo credo che li ho visto a 10 sono 10 qui ma credo che li ho visto sulle le peste un po' più 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 i piccoli i cattini sono 8 i piccoli i piccoli sono sicuro che ho portato uno di questi qui no 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 mai nemmeno siamo da rosso pomodoro che è una tappa ormai immancabile per me a Venezia ma è sempre una garanzia anche qua a Venezia è molto grande quindi c'è sempre posto anche se non si prenota e stiamo vedendo un attimino che cosa prendere li sto aiutando con il menù per capire esattamente che cosa sono tutte le nostre cose tipiche adoro perché lui ormai sa talmente tante cose sui piatti italiani che sta consigliando direttamente lui lo stiamo trasformando tramutando in un italiano pieno pieno loro sono matti oltre alla pizza hanno ordinato anche un antipasto da dividere calamari fritti e zucchine fritte e in frattempo aspettiamo la pizza wow I told you guys gonna be big yummy io ho preso mortadella pesto di pistacchi burrata e ci ho fatto mettere però il pomodoro perché bianca non mi piace particolarmente capricciosa calzone incredibile ma vero ragazzi tipo penso che sia la prima volta nella mia vita ho finito tutta la pizza quindi sono molto orgogliosa avevo veramente fame estasiata bella vista di piazza San Marco vista mille volte ma non stanca mai bellissimo ormai è una tradizione venire in piazza San Marco a prendere lo spritz più caro del mondo però c'è l'orchestra ed è vabbè abbiamo questa vista che è imbattibile se tutti i fidanzati sono così e c'è risa per la strada ci porta verso l'hotel e si rifiuta di guardare se effettivamente la strada è quella giusta alla fine ci arrivi l'hotel solo che ci metti il triplo del tempo però in compenso abbiamo trovato una parte di Venezia in cui non c'era nessun turista bellissima abbiamo fatto una passeggiata stupenda e guardate che bella la piazza alle mie spalle quanto è bella adesso il programma è di tornare in hotel riposarci un pochino e poi usciamo a cena stiamo effettivamente valutando voglio andare al mcdonald perché io voglio assolutamente mangiare il toast del mcdonald italiano che non si trova da nessun'altra parte e poi abbiamo il nostro ghost tour stasera che figata e questo è per la signora posso preparare io o fate voi questo è per la signora che ha solo i patate e i pomodorini e questo con le patate al forno è solo per lei grazie mille io ti lascio il piatto allora ti porto un piatto per mettere le lische sì grazie allora facciamo così uno qua al centro per voi due ok dovrebbe starci e uno qua per la signora così avete due piatti per poter mettere va bene perfetto grazie mille a posto sale e pepe salt and pepper ok perfetto grazie all right buon appetito poi qua a piacere se volete un po' di olio siciliano perfetto grazie buon appetito grazie grazie yum ghost cena arrotolando stiamo andando verso il ghost tour che bella venezia la sera praticamente vuota dicono che sarebbe bello poter fare il bagno a venezia ma nei canali ma non lo farei fighissimo ragazzi abbiamo iniziato il ghost tour e adesso ci sta portando appunto in giro però mi è stato detto che non si può filmare quindi ahimè non potrò filmare tutte le sue storie eccetera ma vedrò magari di inquadrare tipo le location una cosa del genere nel frattempo dietro di noi c'è stato un tramonto bellissimo tornati in hotel ragazzi io sono cotta penso di non aver mai camminato così tanto nella mia vita mi dispiace non aver potuto filmare ma appunto mi è stato chiesto di non farlo io chiedo sempre insomma mi sembra il minimo dell'educazione chiedere e mi è stato detto proprio ti prego non filmare ho avuto un trauma con qualcuno che mi ha filmato quindi non ho proprio voluto prendere la videocamera se non per un breve momento in cui eravamo tipo in pausa però è stato molto molto interessante anche se ha parlato più di leggende di storie molto paurose tipo torture cose del genere cose successe a Venezia ma di fantasmi non ha fatto menzione purtroppo comunque è stato molto interessante però appunto la parte dei fantasmi un pochino mi era mancata speravo che ci fosse qualche leggenda qualche storiella in più di case infestate cose del genere perché appunto avevo fatto un ghost tour a Dancer da un tempo fa ed era stato molto più incentrato su fantasmi spiriti e cose del genere quindi però appunto è stato comunque è stata comunque una bellissima esperienza un pochino diversa da fare a Venezia rispetto alle solite cose turistiche io adesso vi do subito la buonanotte mia family vado a struccarmi anche se la voglia di struccarmi è sempre zero quando sono cotta è tipo il trucco ormai praticamente non c'è più quindi mia family io vi mando un bacione enorme come al solito vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video penso che filmerò già domani un nuovo vlog che sarà il nostro ultimo giorno a Venezia ciao iscriviti al nostro canale a Venezia a Venezia